Come è la fonte alternativa? Una volta raggiunta la remissione perché c'è da dire che esiste anche un momento ottimale per fare il trapianto che è diverso a seconda diciamo parliamo di leucemia in generale ma ogni leucemia poi ha le proprie caratteristiche. Allora si è dimostrato negli anni che per la leucemia linfatica acuta il trapianto migliore una volta ottenuta la remissione del paziente è dato dalle cellule staminali di un donatore, di un donatore compatibile o di un donatore familiare in casi particolari perché è stata dimostrata quella che viene chiamata graft cioè reazione del sistema immunitario del donatore contro le cellule residue del ricevente. Questo è valido anche per la leucemia mieloide acuta in cui pur sempre ad esempio se fatto in prima remissione completa invece il trapianto autologo ha ancora dei buoni risultati. Il trapianto autologo se il midollo può essere purgato e in questo momento però la purificazione del midollo non è più possibile perché il farmaco che veniva utilizzato non è più prodotto. Ma a parte questo ci sono delle curve che quindi davano dei buoni risultati però se noi confrontiamo un vasto numero di pazienti perché è ovvio che noi non possiamo confrontare i nostri 100 pazienti contro le migliaia di pazienti che sono stati cioè quando traiamo le conseguenze dobbiamo vedere nel mondo che cosa è successo nei pazienti con le stesse caratteristiche eccetera eccetera il trapianto allogenico è comunque quello che dà la maggior difesa contro la reinsorgenza della malattia. Ma senza questo farmaco riusciamo a farlo? No, adesso è stato totalmente abbandonato. Non c'è nel mondo la possibilità di ottenere un farmaco similare? Adesso quello che possiamo fare è di selezionare sempre di più i pazienti che di fatto non hanno bisogno del trapianto perché grazie alla malattia residua minima combinando tutte le varie caratteristiche hanno delle, diciamo sono a basso rischio di recidive che quindi in ogni caso non sarà necessario per questi il trapianto e trapiantare solo i pazienti che di fatto sono ad alto rischio.